Sono Roberto Bellini di BG e Partners. Abbiamo coinvolto alcuni clienti strategici al fine di mostrare loro, presentare loro un nuovo prodotto Sony, che è questo 100 pollici, il display 100 pollici, che diventa l'oggetto più grande della famiglia di display professionali. Abbiamo colto l'occasione per presentare ai clienti anche le altre soluzioni Sony che sono presenti oggi e che gentilmente Sony ci ha messo a disposizione per raccontare qual è l'offerta Enterprise sia nell'ambito educational che nell'ambito delle meeting room, delle conferencing, e però della proiezione o dell'acquisizione delle immagini, quindi telecamere, display, videoproiettori. Poi il famoso microfono beamforming che conosciamo molto bene perché in quest'era di pandemia abbiamo avuto la fortuna di poterne installare centinaia, soprattutto nell'ambito accademico. Lo vediamo come un'opportunità di business corporate, però da veicolare verso le case degli impiegati.